La prima uscita ufficiale del Gubbio, seppure non è campionato, è per il torneo Memoria al Mancini. Il Gubbio ha perso i rigori, però ha giocato una buona partita e ha avuto diverse occasioni. Il giudizio di Braglia. Che da costo ancora niente. Di sera poi ancora meno. Che cosa le è piaciuto del Gubbio? Piaciuto quello che abbiamo provato, abbiamo provato a fare. Siamo stati bene in campo, siamo stati ordinati, abbiamo fatto anche delle buone cose. Il problema è che se va via due volte la luce, dopo non è più una partita. Perché i giocatori si freddano, c'è il rischio di infortuni, c'è il rischio di 3.000 cose. Ti sembra una cosa normale a me? A me no. No, nemmeno a me. Non mi era mai capitato. Però al di là di quello che possiamo pensare noi, la partita poi è ripresa. E nel secondo tempo Perugia ha fatto vedere buone cose. Il Gubbio però ha dimostrato anche di saper soffrire. Sì, di saper soffrire. Quando cambi 7-8 giocatori, non è più una partita. Andiamo a cercare. 7-8 giocatori nuovi, sia da parte nostra che da parte loro, non è più una partita. Chi è entrato ha fatto bene, come hanno fatto bene quelli del primo tempo. Siamo contenti di quello che abbiamo visto. E andiamo avanti con il lavoro. Il bilancio di questa preparazione fino a oggi? Anche ora dobbiamo andare sulla velocità, cosa che non abbiamo mai fatto. Dobbiamo torciare le distanze ed andare. E completare la squadra. Grazie a te, ciao.